i ristoratori pesaresi rispondono alle misure restrittive del nuovo decreto maxi operazione contro lo spaccio a valle foglia altri due arresti nell'entroterra coronavirus 166 nuovi casi in regione 10 nella provincia pesarese per l'undicesima tappa il giro d'italia sfreccia a pesaro le immagini del passaggio buona serata benvenuti al nostro telegiornale in questo mercoledì 14 ottobre in apertura parliamo delle prime reazioni alle nuove misure restrittive del decreto entrato in vigore a partire da oggi prime reazioni che arrivano dal settore della ristorazione i titolari infatti di bar e ristoranti chiedono chiarezza e più flessibilità rispetto alle norme emanate con il dpcm come vi raccontiamo in questo primo servizio con l'entrata in vigore del nuovo dpcm emanato dal governo bar locali e ristoranti si trovano nuovamente tra i protagonisti principali delle misure restrittive imposte dal decreto tra gli operatori del settore della ristorazione tornano quindi le preoccupazioni relative alla sopravvivenza delle proprie attività timori mai scomparsi a seguito del primo lockdown il quale ha generato perdite conseguenze economiche di rilievo per tante realtà del settore per l'intera categoria la priorità ora di avere massima chiarezza e più flessibilità sulle nuove restrizioni il settore ristorazione da questo decreto ministeriale ne esce diciamo un po' a pezzi soprattutto per tutto quello che riguarda il wedding con tutto quello che riguarda le feste organizzate gli eventi al di là dei matrimoni ci sono cene di laurea ci sono un sacco di eventi organizzati in cui le 30 persone diventa un limite molto molto blando come numero di persone soprattutto poi non si capisce perché sono le 30 persone anche perché diciamo che la capacità di un ristorante è in proporzione a quello che è le proprie dimensioni non è legato ad un numero preciso quindi se uno ha 600 metri di locale 30 persone sono irrilevanti quello che si poteva chiedere anche con un incontro era quello magari di essere un po collaborativi magari di non annullare tutto per questo fine settimana perché molta gente già messo in pista che già fatto acquisti ha fatto tutto per questo fine settimana che era già impegnato la cosa che poi colpirà la ristorazione è che un chiarimento logicamente su quello che sono alcuni aspetti quella delle famose h24 quindi alle 24 io non posso più prendere nessuno è un discorso o che il locale deve essere completamente chiuso a mezzanotte perché non mi sembra giusto che qualcuno magari venga a mangiare alle 10 di sera a mezzanotte ancora prende il caffè io devo prendere devo mandarlo via ecco noi cerchiamo di rispettare le regole quanto più possibile e se ci sfugge qualcosa chiediamo anche alle forze dell'ordine di aiutarci a evidenziare adesso se sono mancanze chiaramente leggere perché quello io penso che la maggior parte dei locali io parlo per loro sia in regola con il discorso covid ma anche con tutte le altre cose quindi chiediamo questo aiuto e chiediamo di poter lavorare tranquillamente con una maglia un pochino più ampia di quella che ci stanno ripresentando Confcommercio ha poi esortato il prefetto Vittorio Rapolla affinché si organizzi un incontro insieme alle forze dell'ordine per eliminare i buchi interpretativi segnalati dalla categoria la richiesta noi l'abbiamo fatta lunedì mattina c'è stato risposto che si attendeva l'uscita del DPCM giustamente anche perché onestamente di fare una riunione su un qualcosa che non fosse scritto era nulla la richiesta che noi facciamo su eccellenza che si è sempre dimostrato molto disponibile e umano nei confronti degli operatori di fare un incontro con le forze dell'ordine per trovare quella collaborazione necessaria per far fronte ai buchi che ci sono all'interno del DPCM i buchi interpretativi che sono i buchi che potrebbero dare adito a polemiche inutili se siamo tutti in grado di lavorare nella certa direzione siamo in grado anche di ottenere risultati sicuramente molto superiore a quello che noi ci auspichiamo anche perché il DPCM crea grossi problemi alle attività in questo momento sia a livello interpretativo sia dal punto di vista proprio logistico nel senso che non si capisce esattamente come devono lavorare quindi per evitare problemi successivi cerchiamo di prevenire piuttosto che curare dopo in maniera difficoltosa. Ed ora passiamo alla cronaca perché si è conclusa con due arresti e dieci denunce per droga la maxi operazione condotta dal comando provinciale dei carabinieri che ha stanato una fitta rete di spaccio di sostanze stupefacenti radicata a Montecchio ma con diversi colpi messi a segno anche nell'Urbinate e nel Pesarese. Per intracciare tutti i componenti dell'organizzazione il nucleo Cinofili ha effettuato 12 perquisizioni domiciliari e personali a Vallefoglia, Petriano, Monte Cicardo e Iesi durante le quali sono stati rinvenuti 3 grammi di cocaina materiali per il confezionamento dello stupefacente e quasi 5 mila euro in contanti ritenuti proventi di spaccio. Gli arrestati padre e figlio di origine napoletana ma residenti a Vallefoglia da diversi anni sono stati raggiunti a casa e presso il luogo di lavoro per essere poi trasportati presso il carcere di Villa Fastigi. La banda conta poi altre dieci persone tutte denunciate che avevano il compito di spacciare e vendere le sostanze nelle località rese notte dai carabinieri. Vi racconteremo poi nel dettaglio e approfondiremo questa importante operazione all'interno del Vallefoglia Magazine in onda venerdì alle ore 19. E continuiamo a parlare di cronaca perché il comando provinciale dei carabinieri ha reso noto sempre nella giornata di oggi di altri due arresti per un'altra operazione contro lo spaccio nell'entroterra pesaresi. Protagonisti due 35 anni albanesi disoccupati e residenti a Borgo Massano di Monte Calvo in Foglia. I due sono stati fermati in prossimità del casello autostradale. La perquisizione dell'auto e poi dell'abitazione ha permesso ai militari di rintracciare 140 grammi totali di cocaina, strumenti per il confezionamento della sostanza ed un bottino per lo spaccio di qualche centinaia di euro. Ed ora i consueti aggiornamenti del coronavirus nelle ultime 24 ore infatti raddoppiano i numeri dei nuovi casi di contagio da Covid-19 nelle Marche. Il Servizio Sanità della Regione ha comunicato che sono stati testati 3.082 tamponi, 1.777 nel percorso nuove diagnosi e 1.305 nel percorso guariti. I positivi sono 166 nel percorso nuove diagnosi. Con 10 casi la provincia di Pesaro Urbino registra il numero inferiore di nuovi positivi rispetto alle altre province della regione. Sale però il numero dei pazienti ricoverati. Nell'ospedale Marche Nord 9 si trovano nel reparto di malattie infettive, 1 in malattie ostetricia e 2 in terapia intensiva. E sono partiti questa mattina nella foce del fiume Foglia i lavori per rimuovere il tappo formato da una grande quantità di ghisa. Un caso che abbiamo seguito anche noi di Rossini TV attraverso le segnalazioni che tanti cittadini ci hanno inviato. Sono cominciati questa mattina i lavori alla foce del fiume Foglia per eliminare il tappo di ghiaia che versava nell'area ormai da diversi giorni. La problematica che si ripete da anni creando disagi spesso impedisce l'accesso al mare per le imbarcazioni pesaresi. Soltanto pochi giorni fa infatti una di queste si è arenata a causa della bassa marea. Non è una novità quindi nemmeno l'intervento odierno di rimozione della ghiaia eccedente, che però rappresenta soltanto una soluzione temporanea. Per questo, come riferisce l'assessore all'operatività del comune di Pesaro Enzo Belloni, è necessario istituire un tavolo insieme alla regione e agli enti preposti per delineare un progetto che porti all'eliminazione definitiva del problema. Si risolviamo per qualche tempo, non è una soluzione definitiva come è impossibile da trovare. Si tratta della foce di un fiume che ospita centinaia di barche. È un luogo strategico per la nostra città e quindi il comune interviene, anche se bisogna sottolineare il fatto che tutti gli oneri e le concessioni vengono riscosse da altri enti e non dal comune, che chi tiene la barca lungo il fiume paga un rimessaggio e quindi bisogna che da qui davanti, assieme alle associazioni del fiume e assieme alla regione, ci vediamo attorno a un tavolo per stabilire degli interventi puntuali, non solamente nei momenti di estrema difficoltà come questo e ognuno deve fare la propria parte. Noi siamo intervenuti con qualche migliaia di euro e devo dire un lavoro che durerà 1-2 giornate e non di più. Dura molto di più la procedura autorizzativa perché tanto noi siamo in Italia, quindi più carte che cariole mi piace dire perché per fare un lavoro di due giorni magari ne dobbiamo spendere 7-8-10 per avere tutte le autorizzazioni necessarie, per togliere un po' di ghiaia e ammucchiarla da un'altra parte. Quindi l'augurio che vi faccio, l'impegno che vi prendo è assieme agli enti preposti che hanno la competenza sul fiume e assieme agli operatori del fiume che gestiscono le imbarcazioni sul fiume di fare a breve un tavolo per stabilire una strategia condivisa che ci dia risposte non solo all'emergenza. L'intervento di oggi avrà effetti positivi per una tempistica di quanto tempo più o meno? Ma questo non lo sappiamo, dipende dal tempo, dal fiume. Se dovessero verificarsi temporali e arriva la famosa fiumana, quella porta via tutto. Se arriva invece la corrente dal mare, la mucchia. Quindi dipende solamente dal tempo e capire quanto durerà l'intervento. È chiaro che arriveremo sicuramente a primavera e poi a primavera il problema si ripresenterà quasi sicuramente. Il nostro obiettivo è provare a risolverlo in maniera strutturata. È passato questo pomeriggio a Pesaro intorno alle 14.30 per la sua undicesima tappa, Porto Sant'Elpidio-Rimini, il centotresimo Giro d'Italia. 176 ciclisti che hanno percorso la statale Adriatica, Baia Flaminia e altre zone della città per poi proseguire la corsa verso Rimini, passando anche per Gabice Mare. Per l'organizzazione dell'evento sono state diverse le modifiche apportate alla circolazione che hanno interessato anche il trasporto scolastico di diversi istituti. Tutto però si è svolto senza complicazioni, grazie anche al supporto di 30 uomini della protezione civile impegnati a sorvegliare le zone interessate. A causa del Covid-19 quella di quest'anno è stata sicuramente un'edizione diversa rispetto alle precedenti, inferiore il tratto cittadino lungo il quale la carovana di biciclette è sfrecciata e meno pubblico presente per assistere alla competizione, che però è stata accolta dai presenti con tanto affetto come ogni anno. Ed ora ci spostiamo a Fano e parliamo di politica con il passaggio del testimone in Casa 5 Stelle. Dopo l'elezione di Marta Ruggeri in Consiglio regionale e le conseguenti dimissioni da consigliera comunale, a prendere il posto nell'Assemblea cittadina sarà l'Avvocato Matteo Giuliani. Simone Celli l'ha intervistato per noi. Ridurre le tasse comunali per le nuove imprese, liberare il centro dalle auto e incentivare la partecipazione dei cittadini quando arriva il momento di prendere delle decisioni importanti. Sono questi i tre punti cardine su cui l'Avvocato Matteo Giuliani intende lavorare, non tanto come semplice legale, ma come consigliere comunale tra le fila del Movimento 5 Stelle. Sarà lui infatti a prendere il posto di Marta Ruggeri, neoeletta in Consiglio regionale, all'interno dell'Assemblea cittadina. Il 54enne ex Presidente di Bene Comune, alle scorse elezioni comunali, è risultato il quarto dei non eletti tra i pentastellati. Ma in seguito a una serie di rinunce, dovute principalmente a questioni lavorative, è ora arrivato il suo turno. Il nostro impegno come consiglieri e il mio personale, sarà innanzitutto nella necessità di garantire tutte le nuove attività improduttive che vogliono intraprendere nella città di Fano una riduzione della tassazione di tutte le tariffe e di tutte le tasse comunali. Questa proposta era già nel nostro programma, speriamo di fare breccia, visto che anche il vicino Comune di Fano, retto da un'amministrazione di centro-sinistra, sta già percorrendo questa strada. Altro punto molto importante per la nostra città è quello di liberare il centro cittadino dal traffico di attraversamento. La città ancora è soffocata dal traffico e quindi sarà importantissimo realizzare quegli assi viari che possano allontanare il traffico dalla città di Fano per consentire ai cittadini di poterne godere, di poter fruire in modo veramente libero, sicuro e piacevole del centro città. Molto importante per la nostra città è anche la partecipazione dei cittadini. Abbiamo sentito in questi giorni parlare di partecipazione ex post, cioè l'amministrazione ha preso delle scelte importanti con grande impatto sul territorio cittadino senza alcuna forma di partecipazione e coinvolgimento della cittadinanza e parlando di partecipazione ex post. La partecipazione si fa dopo, no, la partecipazione si fa prima e noi cercheremo di affermare questo principio con forza. I cittadini devono essere posti al centro dell'attività amministrativa, devono trovare ascolto nell'amministrazione comunale. Come sapete, in base alle regole interne del Movimento 5 Stelle, appena eletta in Consiglio regionale, ho dovuto rassegnare le dimissioni dal Consiglio comunale di Fano. Il mio posto sarà preso dall'Avvocato Matteo Giuliani, che come spero vi ricordiate, quando sono stata candidata a sindaca per le amministrative di Fano, avevo indicato come membro della Giunta, come assessore al bilancio. Ed è proprio lì, in questo ambito, che porterà il suo impegno. Infatti sarà membro della Commissione Bilancio del Comune di Fano e sarà membro anche della Commissione Garanzie e Controllo. Quindi a lui e ai colleghi che restano in Consiglio comunale, quindi al Capogruppo Tommaso Mazzanti e al Consigliere Panaroni, faccio i miei migliori auguri di buon lavoro. I rischi legati agli assembramenti rappresentano un vero problema per i titolari e gli operatori delle attività commerciali, che a causa dell'imprudenza di qualche cittadino potrebbero trovarsi costretti a pagare delle sanzioni. Sul tema è intervenuta la Confesercenti per chiedere un protocollo che individui i compiti dei titolari degli esercizi, come ci spiega nell'intervista il responsabile provinciale Alessandro Ligurgo. Il problema che hanno gli operatori oggi, a cominciare dei pubblici esercizi, ma non solo, anche dei negozi normali, è l'assembramento. Oggi come oggi abbiamo notato, è vero, che una gran parte della cittadinanza percepisce ormai come è passato l'argomento Covid. Ora, il problema degli operatori qual è? È quello che molte volte non sanno esattamente come comportarsi. Abbiamo le persone che sostano al di fuori dei locali, che effettivamente sono su suolo pubblico, e non credo che il singolo operatore possa fare qualcosa come disperdere le persone, o comunque imporre loro una certa forma di distanziamento sociale. Noi ci conformiamo, quello che hanno richiesto anche le altre associazioni, nel richiedere una sorta di protocollo di comportamento dell'operatore per poter far fronte a questo problema. D'altronde non è giusto che per colpa della cittadinanza, di alcuni clienti che non si preoccupano di tenere le mascherine, di stare troppo vicini, eccetera, eccetera, paghi poi il pubblico esercizio o il negozio. Le multe non sono di poca cosa, di poco conto, è già una multa di 400 euro, addirittura la chiusura del locale, insomma non è una cosa da passare, che passa inosservata. Il diritto all'istruzione passa per il sostegno ai minori, agli adolescenti e anche al supporto psicologico dopo la pandemia. Va in questa direzione la missione di Articolo 26, un'iniziativa che riunisce tante associazioni del territorio, coordinata dalla Fondazione Vanda di Ferdinando. Ne abbiamo parlato con la Presidente Federica Panicali. Articolo 26 è un'iniziativa sul diritto all'istruzione, l'abbiamo detto prima, è partita nel 2018, siamo alla terza edizione. Cosa succede? Che a causa della crisi sanitaria che abbiamo vissuto e stiamo tuttora vivendo, abbiamo dovuto ripensare a questo tipo di progetto, l'abbiamo ripensato cercando di ampliare il pubblico al quale si rivolge e cercando di avere un approccio concreto. Ci siamo dati quattro macro-obiettivi. Il primo è rivolto a un supporto ai più piccoli, quindi ai bambini delle elementari, ai quali doneremo 100 kit che contengono nello zainetto appunto dei prodotti tipo colori, cancelleria, quaderni. Poi permetteremo loro con i nostri partners di giocare a un gioco che si chiama Go Goals e che si fonda sugli ideali dell'agenda 2030 e gli obiettivi di sostenibilità dell'agenda 2030 dell'ONU. E sempre facendo riferimento all'agenda 2030 dell'ONU, con il secondo macro-obiettivo permetteremo ai ragazzi, gli studenti delle scuole superiori, di avere un approccio nuovo, diciamo meno formale, all'esperienza di studio, incontrando loro coetaneo, ragazzi un po' più grandi, che possono portare delle testimonianze di una scuola di idee da sviluppare insieme. E doneremo anche a questi ragazzi 10 tablet per aiutare coloro che ancora non sono riusciti ad avere un approccio digitale con lo studio. Abbiamo ampliato la nostra rete, infatti oltre al centro Jonas che offrirà 30 ore di supporto psicologico alle famiglie e agli studenti ed oltre all'incontro organizzati dall'Associazione Vicolo Corto e dall'Africa Chiama Ollus, avremo con noi anche la cooperativa Jolly Rogers che si occuperà appunto dell'iniziativa del gioco da tavolo Go Goals per i bambini delle elementari e anche primo comunicazione perché questo ci permette di far conoscere meglio l'iniziativa su più fronti e raggiungere un pubblico più ampio perché vogliamo essere come sempre super trasparenti in quello che facciamo ma anche diffondere i nostri interventi operativi a favore dei giovani, del diritto all'istruzione e permettere a tutta la comunità di vedere come con una iniziativa su un territorio limitato si possa progettare un futuro migliore per tutti in un'ottica di speranza della quale c'è molto bisogno in questo periodo. Il Comune di Pesaro aderisce alla Redi la rete nazionale delle pubbliche amministrazioni anti-discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere la Giunta infatti ha dato il via libera la sottoscrizione della Carta d'Intenti documento che impegna amministrazioni locali e regionali ad avviare un dialogo con le associazioni locali LGBT+. Sono state quasi 7.500 le presenze registrate al centro visite della Gola del Furlo e al Museo del Territorio tra giugno e settembre si è trattato per la maggior parte di turisti regionali ed extra regionali con una bassa percentuale di stranieri grande soddisfazione per il bilancio più che positivo della stagione è stata espressa dal direttore della riserva Maurizio Bartoli Si è aperta domenica scorsa la straordinaria mostra di Mario Vespasiani ritratti, sguardi e anime presso l'archivio di Stato di Pesaro in via della Neviera 44 che rinnova il dialogo tra i documenti della storia e la migliore arte contemporanea La mostra sarà visitabile fino al prossimo 14 novembre con orari 8.30-18 dal lunedì al venerdì mentre il sabato sarà aperta dalle 8.30 alle 13 Un altro appuntamento in programma è quello per venerdì 16 ottobre alle ore 19 nella Galleria degli Specchi dell'Alexander Museum Palace Hotel di Pesaro dove sarà presentato il libro di Carlo Gentili di armonia la compresenza degli opposti e partirà domani sera all'interno del nostro telegiornale i consigli dello chef la rubrica di cucina a cura in questo caso dello chef Daniele Patti che ogni giovedì all'interno appunto del nostro Rossini News ci illustrerà la preparazione di diverse ricette sentiamo qualche anticipazione in questa prossima intervista la nuova rubrica di cucina i consigli dello chef con le ricette di Daniele Patti andrà in onda tutti i giovedì all'interno del telegiornale di Rossini TV i consigli saranno le emozioni e le passioni che facciamo uscire dai nostri piatti quindi andremo a proporre i piatti che circolano di continuo sulle nostre carte sui nostri piatti sui nostri fuochi e sui nostri banchi e con questi piatti vogliamo appunto raccontare e far entrare dentro le case dei pesaresi dei marchigiani i piatti che rappresentano il nostro ristorante la cucina sarà sicuramente una cucina personalizzata una cucina dello scudiero legata ai prodotti del nostro territorio legata alle marche legato al mare adriatico legato all'entroterra con l'esperienza le tecniche che da sempre studiamo per creare dei piatti di una qualità elevatissima piatti che anche si possono proporre a casa perché in maniera dettagliata vengono descritti gli ingredienti vengono descritte le ricette vengono appunto fotografate immortalate con delle immagini i momenti salienti di ogni preparazione sicuramente un piatto che in questo momento sta dando fortissimo è la ricciola in tataki quindi questa cottura veloce della ricciola nella padella caldissima che viene prima massaggiata e coperta con l'olio e viene scottata in padella è una caratteristica importante che può far fare la differenza a casa quando si va a cucinare un trancio di pesce come la ricciola oppure il tonno e quindi l'appuntamento è con i nostri telespettatori certo vi aspettiamo per farvi vedere le nostre ricette e i nostri piatti e allora non perdetevi la puntata di domani sera del nostro Rossini News perché proprio domani sera appunto vedrete i consigli dello chef e questa nuova rubrica di Rossini TV intanto andiamo a raccontarvi quello che ci sarà questa sera in onda sul canale 633 un appuntamento che vi spiega il dietro le quinte del GAD il festival nazionale d'arte drammatica che è avviato si avvia proprio in questi giorni e noi vi daremo e vi racconteremo qualche indiscrezione appunto in merito a questo festival alle 21.15 e alle 22.30 e vi ricordiamo anche che venerdì 16 ottobre alle ore 20.30 in diretta su Rossini TV trasmetteremo la seconda giornata in diretta dal Palasele di Eboli Feldi Eboli contro ItalService Calcio 5 Pesaro e allora non perdetevi la diretta dell'ItalService intanto io vi ricordo anche il nostro numero per le segnalazioni 370 366 7210 mandateci vostre foto o video a questo numero di Whatsapp tra pochissimo il meteo e noi invece ci rivediamo domani mattina in diretta alle 7.20 con la nostra consueta rassegna stampa grazie a tutti